Questo video è offerto da NordVPN, continuo a guardare il video per scoprire come ottenere il 73% di sconto e un mese gratis del servizio Sì, ho il raffreddore, no, non è covid Mi potreste cortesemente dire se anche secondo voi questi pantaloni sembrano di un pigiama Perché ogni persona che incontro mi diceva perché sei uscito in pigiama, ma non è un pigiama, sono dei jeans E saluto ragazzi, bentornati in questo nuovo video Per fare quest'urlo mi sono giocato una settimana di mal di gol Come state? Come va? Lo so che vi ho fomentato con il titolo, con questo tavolo Guardate quante le cornie ci sono su questo tavolo, quanti soldi, se precipita praticamente devo vendere la casa Purtroppo non è il ritorno del video della collezione Apple che mi state chiedendo da anni Però potrebbe essere un modo per chiedervi di scassarmi le palle nei commenti dicendo di fare un nuovo video sulla collezione Così forse potrò sfruttare questa occasione per riproporvi un secondo episodio di tutta la mia collezione di Apple Ma quest'oggi ho semplicemente riunito dei dispositivi Apple a caso di qualsiasi genere su questo tavolo Per parlarvi del dispositivo Apple più costoso in assoluto Che in realtà non è neanche un dispositivo Ma prima un messaggio dal nostro sponsor NordVPN NordVPN è il leader tra i servizi di VPN che possiate scegliere per una navigazione in internet sicura e dislocata dalla vostra reale posizione Come potete vedere dal sito ufficiale è disponibile per tutte le piattaforme Sia essa Windows, Mac, Linux, iOS, Android o addirittura Firefox e Chrome tramite le estensioni E una volta scaricata l'app relativa al vostro sistema operativo Sarà sufficiente selezionare dall'elenco uno tra più di 5000 server diffusi per il mondo Per effettuare una connessione ad internet sicura e criptata partendo da quel paese e non da quello da cui vi connettereste normalmente Questo può essere un salvavita per sbloccare contenuti stranieri su siti di streaming come Netflix o Crunchyroll Ma soprattutto vi garantisce una navigazione in internet più sicura e con maggior privacy E io sono qui oltre che per segnalarvi la promo del Black Friday disponibile sulla homepage Che recandovi sulla pagina nordvpn.com slash blackjik Potrete disporre di uno sconto esclusivo del 73% sul totale utilizzando il mio codice sconto blackjik Maggiori informazioni controllando il link qui sotto in descrizione Ora in realtà il dispositivo Apple più costoso di tutti è da interpretare come frase Perché come avrete intuito qui dentro non c'è un dispositivo da migliaia di euro Era un po' improbabile Probabilmente il dispositivo più costoso all'atto pratico effettivamente di Apple mai acquistato da me medesimo A parte il Mac Pro che l'ha acquistato Surry quindi non vale Probabilmente potrebbe effettivamente essere il Macbook Pro da 14 pollici di cui vi ho parlato qualche settimana fa Che io non posso farvi vedere perché sta registrando l'audio Quello che il mio titolo assolutamente non clickbait voleva dire è che questo in proporzione è l'oggetto più costoso di Apple in assoluto Diciamo il rapporto di costo di produzione e vantaggi insomma feature funzioni che offre Rispetto a quanto chiede è secondo me il rapporto più alto di tutti Avete già capito di cosa si parla? Oggi vi faccio vedere il panno per la pulizia Apple Lo so, lo so, tecnicamente ho fatto un clickbait ma tanto YouTube ha tolto il numero di non mi piace no? Quindi siamo a posto Da parte degli scherzi ragazzi ragionateci un attimo con me Questo prodotto vale 25 euro 25 euro Ed è più piccolo di una mano Non ha parti meccaniche né elettroniche, non ha un sistema operativo, non ha niente Tutto quello che vedete qui costa più di 25 euro Ma è giustificato qualcosa di più, qualcosa di meno ma è sempre un prezzo giustificato Questo, questo non so neanche come descriverlo Quando l'ho visto aggiungere agli oggetti che si vendevano sull'Apple Store Online Il mio dito è andato su compra automaticamente Penso di essere stato il primo al mondo ad aver acquistato questo oggetto Perché ho detto io ci devo fare un video E sarà un video basato sul nulla Perché io che cosa devo dire? Su un panno per la pulizia Apple Confezione realizzata in carta con scritto polishing cloth Nemmeno tradotto tra l'altro Molti prodotti Apple sono stati tradotti ovviamente Qua non si sono neanche presi la briga di farlo Però noto con piacere che probabilmente questo è il primo panno in microfibra al mondo Ad avere un numero modello, un codice a barre, un numero seriale e un copyright Incredibile, stiamo vivendo in un'epoca magica Non c'è letteralmente nient'altro da dire Nel senso che è una normalissima scatola di carta Vediamo se si apre da entrambi i lati o soltanto da uno Soltanto da uno, incredibile Due secondi l'abbiamo già aperta Che tra l'altro io mi aspettavo anche di avere un astuccino un po' più grande Insomma che questo panno fosse un po' più grande Invece, signore e signore Abbiamo il panno Apple da 25 euro E io stavo pensando, visto che ho sentito due cose al tatto, ce ne saranno due E invece no, ce n'è solo uno Questo è un pezzo di carta che ci dice È un utilizzo sicuro per tutti i display Apple e tutte le superfici Apple Per pulizie non frequenti o diciamo sporcizi e regolarità difficili da rimuovere Potreste dover utilizzare una soluzione al 70% di alcol isopropilico Che ovviamente si sa che per pulire un qualsiasi schermo senza graffiarlo, senza danneggiarlo Bisogna usare un panno in microfibra e l'alcol isopropilico Non è che ci voglia il cervello di Marconi Detto questo, ecco il panno di Apple Tra l'altro lo sto mettendo al contrario Come mai costa 25 euro? Perché c'è la melina qui in basso Vedete? Logo della mela Più 25 euro Scherzi a parte ragazzi Cioè devo ammettere che è il panno con la fattura più bella che abbia mai visto Cioè è stramorbidoso Profuma Per quanto io non senta gli odori Sento un leggero profumo di barbecue Non è il classico odore di Apple È come se qualcuno avesse fatto una grigliata prima di impacchettarlo Magari è anche così Però 25 euro Cioè è incredibile Allora adesso voglio fare un piccolo esperimento con voi Per questo esperimento utilizzeremo il metro da sarta Che ho gentilmente inc*****o a mia madre 16 centimetri Per 16 centimetri Se riuscite a farlo pure quadrato Ma adesso mica finisce qua la cosa Non starete capendo un c***o di quello che sto facendo Ma sono solo a metà dell'opera Ok Non è precisissimo Anzi fa abbastanza schifo Però è per darvi un'idea Tra l'altro ho anche realizzato che ho fatto male i conti Perché sono 16 per 15 Quindi sono riuscito a sbagliare qualcosa pure qua Perdonatemi la mia professoressa di disegno tecnico Era una schiappa Tutta sta c***o che ho appena fatto Ve lo giuro non è un modo stupido Per allungare il video fino a 10 minuti Piuttosto che una trovata per tenervi incollati allo schermo Cioè probabilmente anche Ma in realtà è un disperato modo Per tentare di vedere le cose Sotto una prospettiva diversa Che convincano la mia testa Che questo pezzo di stoffa Che nemmeno è stoffa Valga 25 euro Ora vi do questa prospettiva 15 quadratini per 16 fa 240 Qua ci sono 240 quadratini Quindi a ricordi logica 25 diviso 240 Fa 0,1 Questo significa che uno di questi Uno solo di questi quadratini Vale 10 centesimi Sì questo sarebbe cente Ma purtroppo sbava tutto Quindi non si capisce Un quadratino di stoffa del genere Vale 10 centesimi Incredibile Beh ma a questo punto proviamolo Spero di ricordarmi di pulire dalla parte giusta Utilizzerò dell'acqua E non dell'alcol isopropilico Perché non ce l'ho Ma se sparano la fotocamera Cosa succede? Ho macchiato l'obiettivo No a posto Basta fare cazzo Opla No ti prego non t'accendere Non t'accendere Sei acceso Ah è anche impermeabile Beh figo però Guarda Questo è molto figo È tipo idrorepellente È una cosa bruttissima Sembra che tipo lo stia passando dal lato sbagliato Che stia sporcando di un'iposca il mac Cosa mi tocca fare? Oh scintillante Scintillante In realtà sarebbe stato comodo pulirlo da una parte e asciugarlo dall'altra Ma avete uno youtuber coglione quindi non si può fare Scherzi a parte ragazzi non so più veramente cosa dire sul panno per la pulizia di Apple Ovviamente ho cercato di fare un video sarcastico Questo prodotto è rimasto in attesa a casa mia Apercia Lì senza che io lo aprissi Ho aspettato due settimane per fare il video Perché non sapevo che cosa dire Che cosa c'è da dire su un prodotto del genere Però un video ce lo dovevo fare insomma Questa sera mi sentivo in gaina e l'ho registrato Qua il signorino è uscito anche abbastanza bene devo dire Mi serviva una scusa per pulire questo Mac Che adesso dovrò asciugare con un altro panno in microfibra Perché questo non va bene Non voglio rischiare che mi lasci un grovier appiccicato allo schermo Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su Che vi renderebbe veramente felice Seguitemi su tutti i miei social network Come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione Cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei due video E invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi Io vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo in un prossimo video Ciao